Migliorare i consumi energetici degli edifici pubblici gestiti da comuni, province e dalla regione toscana per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell'aria. Le assessore regionali Stefania Saccardi e Federica Fratoni hanno illustrato nel corso di un convegno a Firenze i risultati dell'operazione efficientamento energetico avviata due anni fa. Siamo molto felici del risultato al quale arriviamo dopo due anni di lavoro intenso. Prima di tutto la modifica del programma POR inserendo la possibilità di finanziare anche i progetti sugli immobili pubblici e poi questa scommessa, questo bando che è andato ben oltre le aspettative abbiamo raccolto 295 progetti la stragrande maggioranza proposti dai comuni, dalle province e poi ovviamente anche dalle aziende sanitarie. La giunta regionale ha appena deliberato lo scorrimento della graduatoria finanziando circa la metà dei progetti presentati ma l'obiettivo è completare tutto il programma. Per quanto riguarda gli ospedali e altri edifici che ospitano servizi sanitari le ASRA toscane hanno presentato progetti per 45 milioni di euro ottenendo dall'Europa 10 milioni di cofinanziamento a cui se ne aggiungeranno 17 e stanno valutando altre iniziative in partnership con i privati. Noi comunque paghiamo i consumi energetici con il fondo sanitario che è il solito fondo che poi ci serve per curare le persone e per dare una risposta assistenziale. Quindi ogni euro che riusciamo a risparmiare nel contempo migliorando anche l'impatto sui consumi, sul CO2 e comunque sul miglioramento dell'ambiente è un euro in più che noi possiamo riutilizzare in assistenza e in risposte sanitarie. Dal 1 gennaio 2019 in funzione in Toscana l'Agenzia Energetica Regionale che si occuperà di controllare gli impianti esistenti, nelle case come nelle aziende.